Siamo prima del match Chelsea-Liverpool con Davide Boscavino, un giocatore classoso del Chelsea. Allora, avete fatto due uscite? Un 8-8 con l'Everton delle pretendenti al titolo? Leverton, Leverton, Leverton. Non c'eri. Non c'eri, vabbè, avete fatto, hai saputo del risultato. La prima uscita è stata rinviata per maltempo, questa è la terza uscita. Obiettivi di questa sera quindi saranno ovviamente i tre punti. Giocate contro un Liverpool, che non sapete di che passo sono fatti, comunque è una squadra che gioca sul fisico e vanno direttamente al solo. La previsione di questa partita? Fatta una cosa, vediamo. Il campo è bagnato, quindi... Quindi il campo non dà le condizioni ottime da gioco. No. Quindi sarà una partita che... Non c'è più patata, sincero. Vieni qua, Matania, vieni qua. Venga qui a Chiavatania, prego, signor Matania. Noi siamo il 7 e l'8. Il 7 e l'8, come vorrei film, buonasera. Cosa sarebbe questa? L'intervista pre-partita, pre-partita, pre-partita. Dove si può... Poi sul sito vedete tutte le cose. Ah, per capire. Stiamo spiegando... Gli obiettivi di questa sera sono i tre punti all'ora. Certo. Il campo è pesante e ha vantaggiato loro perché sono poco tecnici. Il campo è molto bagnato, anche il terreno di gioco. Ci siamo, ok. Va bene, allora buon campionato, ragazzi. Grazie.